Noi aspettavamo questa questa informazione come tutti gli studi importanti, il dato che matura negli anni è un dato che poi consolida il significato clinico e il checkmate 9LA si è confermato essere una opzione terapeutica assolutamente valida per i pazienti con PDL1 inferiori al 50% sia per l'istotipo adero che per l'istotipo squamoso. Il dato a quattro anni mostra il 21% dei pazienti nel braccio con doppia immunoterapia e chemioterapia vivi a distanza di quattro anni rispetto al 16% e il dato ha un hazard ratio di 0,74%. Questo dato è importante ed è supportato in maniera particolare proprio in quelle popolazioni che prima erano un po' considerate prognosticamente infauste come quelli con il PDL1 negativi o quelli con istotipo squamoso. Sembra che in maggior misura in queste tipologie di pazienti il dato si rafforza con un 23% rispetto al 13% e un 20% rispetto al 10% tra chi fa la doppia immune e la chemio i due cicli di chemio ricordiamo e chi fa la sola immunoterapia. In realtà noi non abbiamo neanche dei nuovi segnali di tossicità a lungo termine che è quello un po' per l'immunoterapia che crea un po' il timore di avere delle sorprese proprio perché è una terapia conosciuta da poco. Ma non solo non abbiamo dati di diversa tossicità a lungo termine ma per coloro che per qualche ragione interrompono il trattamento per eventi avversi relati al farmaco c'è paradossalmente o per fortuna un vantaggio che persiste nel tempo e continua a persistere a distanza di quattro anni per cui è come se davvero il sistema immunitario risvegliato dalla doppia immunoterapia riesce quando viene attivato riesce ad avere e a portare avanti nel tempo questa informazione. Questo è un dato importante, è un dato che si consolida. Il poster è stato presentato da David Carbone ed è la conferma di quanto noi ci auguravamo e aspettavamo. Intanto il valore di questo studio resta quello di poter ridurre al minimo l'impatto della chemioterapia che sia dal punto di vista psicologico e per alcuni versi dal punto di vista della tossicità legata ad alcuni farmaci parlo della tossicità renale ad esempio e spesso può impegnare i pazienti e quindi poter pensare di farne meno resta una opzione terapeutica. Questo studio ovviamente non è l'unica opzione terapeutica ma è una maniera diversa di approcciare a questi pazienti, ridurre la chemio e rafforzare l'immunoterapia. Il valore aggiunto è che si conferma nel tempo quello che era un razionale intravisto, razionale che già l'anno scorso fu confermato a tre anni e che quest'anno eravamo tutti curiosi di sapere se le curve mantenevano la loro separazione, così è stato per tutti i setting di pazienti esaminati.